Si parla della possibilità di mettere a gara ANM, lei ha sempre detto che il servizio del trasporto pubblico resta pubblico, che sta succedendo? Sta succedendo quello che sta nelle carte, non è che il comune decide di mettere a gara, è la regione che ha fatto una legge, credo nel 2016 se non ricordo male, comunque l'anno non sono certissimo, ma credo sia il 2016, in cui ha deciso di mettere a gara il trasporto pubblico, che vorrei ricordare che è una funzione della regione, non delle città. Noi abbiamo impugnato perché volevamo in house e la regione si è costituita contro di noi, quindi se c'è qualcuno che non vuole la gestione pubblica e che vuole mettere a gara con la possibilità di esternalizzazione, è la regione Campania. Siccome la nostra concessione finisce il 31-12, noi siamo preoccupati, perché la regione quanto manca al 31-12? Mancano sei mesi, sette mesi, le gare mi pare che non sono state fatte. Noi nonostante la regione non sia partita e ci vuole in qualche modo portare all'imbuto ed evidentemente sta giocando anche al fallimento dell'azienda del trasporto, noi invece abbiamo salvato nonostante la regione, noi anche in questo bilancio nonostante non abbiamo certezze, perché la regione non ci dà certezze, metteremo le risorse economiche anche per il futuro e quel che è grave è che qui, tra Napoli e Campania, rispetto agli altri luoghi d'Italia, Comune e Regione mettono sostanzialmente le stesse cifre. Questo lo dico perché sento De Luca ogni giorno pontificare del fatto che lui sia il filantropo, che dà soldi a tutti, non solo ricordo che sono fondi europei, a differenza dei nostri che sono a bilancio comunale, ma noi siamo molto poveri, siamo addirittura in predissesto, è un po' come noi siamo la merceria che vende oggetti in cui non ci si può arricchire, e lui è una grande banca e ogni volta fa questa prova muscolare a proposito di forti e di deboli. Quindi adesso la regione si sta innervosendo perché stiamo arrivando al punto, le carte parlano chiaro e noi a dimostrazione che nonostante la regione voglia esternalizzare, voglia mettere a gara, quindi voglia mettere in conto di privatizzare, noi parteciperemo alla gara come a Enem, perché nonostante la regione noi l'abbiamo salvata a Enem e quindi vogliamo servizi più efficienti per i cittadini, nonostante la regione abbia tanti soldi e mette solo 58 milioni di euro, cioè mette la stessa cifra del comune di Napoli. Quindi noi teniamo carte a posto pubbliche, non è lo scontro dei magistri Sede Luca, è da una parte un racconto delle carte che sono chiare e dall'altra una ricostruzione della campagna elettorale che la rispediamo al mittente.